Sono Pierluigi Pizzi, sono architetto, regista, scenografo, costumista. Sono stato dapprima ammacerato allo sferisterio come regista, scenografo e costumista su invito di Cateri Cerelli negli anni 2004 e 2005 e poi direttore artistico dal 2006 al 2011. Furono due maceratesi, Ermas Ercoli e Renato Pasqualetti, un certo giorno a propormi, se volevo prendere io la direzione artistica dello sferisterio, cercando delle soluzioni che potessero dare una svolta a questa manifestazione in modo tale da poter ricominciare, ripensarla in un modo nuovo. Io finì con l'accettare ma a determinate condizioni, cioè di poter portare alla rassegna musicale qualche cambiamento. proposi di fare ogni stagione un tema diverso. Ecco, questa è anche la vera novità sulla quale poi ha pesato la scelta dei vari titoli, perché tutti sono stati pensati con un criterio preciso, quelli che rientrassero ogni anno in un tema. Io credo che il Festival in quei sei anni sia cresciuto, anno dopo anno, si sia adattato alle esigenze, alle condizioni difficili, che ogni anno diventavano più difficili, ma posso dire che non ho fatto nessun tipo di rinuncia. Ho cercato di fare quello che si poteva fare, ma cercando di restare comunque nel programma che io mi ero prefisso insieme con i collaboratori, i miei, senza rinunce, senza rinunce soprattutto alla qualità. Ecco, e questo è una cosa di cui in qualche modo mi sento fiero. Fin dalle prime esperienze in questo spazio che è lo Spiristerio, proprio per la sua eccezionalità, naturalmente ho avuto occasione di interrogarmi più volte su quello che si poteva fare per migliorarlo. Quando ho avuto l'opportunità di farlo, ho cercato subito di intervenire, per esempio liberando il palcoscenico nella sua totalità. in precedenza i due lati di questo palcoscenico che misura di larghezza 100 metri, avendo peraltro poi una profondità inadeguata rispetto alla larghezza, cioè solo 15 metri, i due lati venivano considerati un po' come uno spazio destinato allo scarico delle opere che si alternavano, delle scenografie delle opere in alternanza. A me questo non piaceva, mi piaceva che l'architettura dello Spiristerio fosse restituita al pubblico nella sua totalità. Ma per esempio un'altra novità è stata quella di anticipare l'inizio della rappresentazione. Alle nove in punto c'era un momento particolare che io amavo particolarmente quando si passa ancora dalla luce del giorno improvvisamente al buio della sera. e il fatto di cominciare lo spettacolo ancora in questa luce di tenebra, ancora non con le luci di scena, ma in questa specie di naturalezza, di illuminazione, secondo me dava un fascino molto particolare a questo inizio che risultava essere estremamente poetico. a questo inizio Grazie a tutti